Di conseguenza si deve distociare perché loro sono anticostituzionali e se lei è una persona seria è contro l'utilizzo della violenza e quindi appunto per questo, lei non dovrebbe avere problemi a distociarsi. Quest'orti come collettivo scendiamo in piazza per dire che non tolleriamo che la nostra città lo Stato ha permesso l'avventura di nuovi fascisti. Antifascista 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 Salute Grazie a tutti. Grazie a tutti.